bella a tutti ragazzi e ben ritornati nel canale dei colossi io sono Simone e sono qui in questo nuovo video per portarvi la seconda sfida ai lanci di rifornimenti rari che verrà tra me e Racker 9000 per chi non avesse visto la prima vi lascio nella descrizione il link del video così potrete andare a guardarla il nostro scopo sarà appunto di aprire solo i lanci di rifornimenti rari e cercheremo di trovare o il tirapugno o la chiave inglese o il coltello a farfalla che sarebbero le tre armi nuove che hanno aggiunto è molto difficile ma ci proviamo abbiamo 414 cripto chiavi e più o meno Racker alle stesse forse un po' di più ma iniziamo subito questa sfida cerchiamo di partire al meglio no, comune ecco, un gesto che i lanci di rifornimenti rari sono proprio pieni di gesti e intanto anche il fuoco rapido per l'M8 non male proseguiamo oh, una testa bella, strano le mimetiche a martoriato epiche per il 48 dredge purtroppo appunto appena prestigiato e non riuscirò a far vedere tutte le armi che usciranno beccato ecco, un gesto appunto beh, testa leggendaria per Outrider che è proprio lo specialista che sto usando io più precisamente sto usando l'abilità che è l'impulso visivo e la sua arma sarà lo sparrou proviamo di andare a vederlo no, cavolo, non sono neanche a livello 2 quindi non ho il punto di sblocco peccato perché sembrava bella ma andiamo avanti, apriamo un gesto no, brutto, brutto questo speriamo di rifarci nel prossimo sì, grande mimetica trasgressione e corpo brunco per batteri bello la mimetica trasgressione ce l'ho anche per l'altro lanciarazzi che sarebbe il black cell adesso ve lo faccio vedere perché l'XM53 è già sbloccato e se non mi ricordo male, sì sì è la mimetica con le righe rosse animate bella appunto mi piacciono tutte le mimetiche animate che sarebbero la tempesta uno cromatico e trasgressione appunto ma continuiamo questa sfida cerchiamo di trovare qualcosa di più bello silenzitore per i 205 brecci nulla di che comune, no ecco, un gesto oh, mimetica tempesta appunto, abbiamo detto che mi piace la mimetica tempesta trovata per il Wavid proseguiamo e apriamo il prossimo è un vanto, un altro nulla di che è questo trancio di rifornimento speriamo che il prossimo sia meglio RK5, canna lunga beh dai poteva andare peggio un altro gesto un'altra immetica per l'XM53 e un gesto quelle lì è veramente facile trovarli appunto un altro ICR1 caricatori aumentati non sembra male proseguiamo martoriato per i 205 brecci metica epica e abitante della foresta biglietto da visita leggendario proviamo a equipaggiarlo ecco, guardate su in alto a destra non sembra male quasi quasi me lo tengo continuiamo apriamo il prossimo verde un altro gesto no brutto questo questo qua forse è il più brutto finora qualcosa di bello niente anche questo nulla di che testa per ultrider ma abbiamo quella leggendaria che è molto meglio un emblema raro martoriato per il gorgon no che brutto il gorgon non mi piace assolutamente campo per il BR ma abbiamo aperto anche nel primo luce per l'Lcard mi piace anche la testa sembra bella ne abruciare i duplicati perché abbiamo un 25 cripto chiavi e ce ne servirebbero 30 vediamo quanto arriviamo bene altre 25 siamo a 50 riusciremo ad aprire un lancio di fornimento raro e due comuni vediamo ultima possibilità per trovare un'arma perché appunto nei comuni non si trovano ma nulla di che brutto lancio di fornimento siamo a 27 no dai vediamo no solo un duplicato quindi non riusciamo ad aprire un altro lancio di rifornimento di raro andiamo con i due comuni anche se non riusciremo a trovare le armi nuove perché appunto non ci sono cerchiamo qualche bella mimetica un gesto anche qua ci perseguita nei gesti degli specialisti ultimo vai una cosa bella no niente non abbiamo trovato nessun armi la mia parte si conclude qua vi saluto sarà il turno di Racker 9000 bella ragazzi sono Racker 9000 di Colossi Clan ora è il mio turno e spero di trovare le nuove tre armi andiamo a Rockstruck rispetto rispetto ok la prima non altro uh grande un orario due leggenda spero di trovare anche qualche mimetica che bella mmm no che brutto è un questo Scorpus Sky inferno uh m8 il tocalli proprio leggendario grande epico fireback comune non è andato molto bene oh grande uh la mimetica gemma per il gorgon wow vale più di tutta la tua roba messa assieme durare una leggenda wow che tempesta l'arca 5 caricatura aumentata leggenda eh no un orario più comune ancora farbbe comodo anche a me uh che inganno ammettica leggenda per l'm8 ancora no ancora il corpo cianico per il fireback comune uh grandi m8 caricatori rapi di leggenda non bandierare troppo quella roba intorno cianico vediamo oh sto trovando solo accessori leggendari ancora un orario due comuni grandi templari e raro e epico leggendario resterò senza vediamo il prossimo onorario due comuni vediamo ancora onorario due comuni grande uvo per i comuni ci stanno sempre però uh l'hai metto tempesta per il uevil dai mi metto grande becchino per il uevil credo che è tormentato il gindar per il coltello un uevil un uevil duplicati 62 ok uh popluck Guarda, ancora uno, adesso apro quelli lì, normale, uh, la metri tempesta per il Gorgon, uh, un viaggio a vista al Gennar, il Gennar, poi ci sono duplicati, 13, l'ultimo, vai, ok, questo video di spacchettamento sta arrivando al termine, vi saluto e bella.